Ciao, sono Furio Ceciliato, il fondatore degli originali Origamo. Oggi vediamo insieme tutte le novità che abbiamo preparato per quest'autunno 2018. Cominciamo con due graditi ritorni che i nostri fedelissimi conoscono bene e uno appunto sono i Papaveri Color, un tributo alla primavera che verrà per farci passare un caloroso inverno. E sempre della stessa serie abbiamo i girasoli color, quindi stampati esternamente sempre con il massimo della qualità Origamo. Sempre in tema di restyling vi proponiamo le nuove cicogne che portano le nascite, guardate che bello, quindi veramente stupevole, ovviamente sia in versione bimba che naturalmente è in versione bimbo, molto bello. In tema di nascite e quindi di carrozzine abbiamo fatto il restyling anche della carrozzina, l'abbiamo fatta più grande e con un bellissimo porta foto, porta auguri, porta soldi, può essere quindi utilizzato come bomboniera, come ringraziamento, per mettere la foto del bambino eccetera eccetera, ovviamente anche questo in versione bimbo, con un foglietto dentro, può essere personalizzato, vi si possono mettere i soldi. Arriviamo alle vere e proprie novità e quindi abbiamo due modelli floreali fatta con questa bellissima carta metallizzata e goffrata, non so se si riesce a vedere questa personalizzazione nel video, queste qua sono le violette del pensiero, la particolarità ulteriore di questo biglietto è che abbiamo aggiunto, proprio per non rovinare il biglietto e anche perché non è poi così facile scrivere su questa carta metallizzata, un biglietto personalizzabile che si inserisce all'interno. della stessa serie abbiamo fatto invece la peonia con questa carta bianca molto bella e quindi abbiamo la peonia, sempre per gli amanti del floreale che va tantissimo. Proseguiamo questa carrellata di novità con qualche classicone proprio delle feste, in questo caso abbiamo una grande torta di auguri, una torta di frutta che può essere utilizzata per compleanno o per qualsiasi occasione, molto bella con la carta dorata, un biglietto dedicato alle lauree e ai futuri dottori, che è questo, con le congratulazioni, ritorna a grande richiesta il soggetto della mongolfiera, vedete in questa carta metallizzata blu, con questo nuovo set, quindi il set delle mongolfiere, non so se riuscite a notare che la mongolfiera è sospesa sul biglietto, meraviglioso. Un biglietto così per gli amanti del caffè, vedete con questa carta appunto color caffè è una bella tazzona di caffè, quasi un cappuccino direi, e poi un biglietto dedicato alle shopping queens, alle ragazze signore che amano fare lo shopping, quindi abbiamo una regina dello shopping, con tanto di borsine che si possono spostare e pacchetti all'interno delle braccia della regina dello shopping, il tutto in un viola metallizzato bellissimo. Abbiamo un biglietto valido per un sacco di occasioni, che è questa bottiglia di champagne, che si usa per qualsiasi tipo di occasione, sempre dorato, questo invece è un biglietto che io dedico ai miei amici che mi seguono in tanti e che come me amano versi dell'ottima birra, quindi abbiamo fatto We Sugar Beer e con un bel boccale di birra per fare un brindisi insieme. E concludiamo questa carrellata con l'immancabile unicorno You Are Magic e c'è questo bellissimo E3D unicorno. È finita qui? E invece no, perché dopo tutte queste novità ho creato invece una collezione dedicata allo sport. In molti di voi avete chiesto di fare una sezione a parte allo sport, quindi oltre tutte queste novità che vi ho presentato ho creato una collezione, quindi permette al rivenditore o rigamo di creare l'angolo dello sport, abbiamo anche un espositore dedicato e quindi vediamo insieme tutti gli sport che ho creato. Non potevo che iniziare ovviamente con il calcio, quindi con un I love football, in questo caso declinato con i colori bianco neri ed ecco il calcio come si presenta in bianco nero, quindi col calciatore che tira in porta, in questo caso guarda a caso il giocatore ha il numero 7. Poi invece per gli amanti dei colori rosso-neri, li abbiamo fatto ovviamente in rosso-nero, in tutti gli altri ho messo il numero 10, abbiamo i colori nero-azzurri, la stessa serie continua con i colori giallo-rossi, sempre I love football, e con i colori bianco-azzurri, con un mitico 10. In più ne ho creato uno blu scuro che diciamo è un colore, possiamo definirlo generico che non richiama una squadra in particolare. Proseguiamo la carrellata degli sport con il tennis, quindi abbiamo I love tennis, quindi abbiamo i giocatori, ragazzo e ragazza che giocano con l'arbitro. Abbiamo I love cycling per gli amanti della bicicletta, in gruppo in montagna. Per gli amanti dello sci non poteva che mancare che esserci I love ski, lo sciatore sul cucuzzolo, in questa carta metallizzato bianco. Abbiamo I love swimming per tutti gli amanti del nuoto, ecco qui la piscina. E terminiamo con altri due molto belli, uno I love golf, può essere utilizzato anche per augurare una buona pensione. Eccolo qui con il giocatore, questo bellissimo sport. E terminiamo con una piccola opera d'arte perché i nostri ingegneri si sono veramente superati nel creare questo I love basketball con questo campo da gioco veramente complesso e molto esplosivo. Bene, tutte queste novità saranno disponibili nei negozi a partire da ottobre e per i nostri negozianti abbiamo preparato una sorpresa. Quindi se tu sei un privato e sei interessato ai nostri biglietti vai su www.origamo.com e troverai il negozio a te più vicino. Se sei un negoziante, uno dei nostri rivenditori, chiama subito il tuo agente origano di zona, ti farà vedere dal vivo tutti i soggetti ma soprattutto ti farà vedere le offerte che ho creato per te riguardanti appunto il lancio di queste novità. Quindi adesso vi mostro un regalo che ho preparato proprio per il rivenditorio origano e per le loro detrine. Ed ecco come promesso il regalo che ho preparato per tutti i miei rivenditori. Questa è una meravigliosa teca fatta a mano in Italia. Adesso c'è la luce, non si vede molto ma è tutta circondata di LED. Questa preziosa teca è addirittura studiata impilabile, quindi nel tempo tu potrai creare nel tuo negozio e nella tua vetrina il corner delle teche origamo. Queste contengono tutti i biglietti origamo, quindi come vedete anche di una certa grandezza. Bene, questa teca preziosa fatta a mano, dipinta a mano è in regalo per te se acquisterai le novità secondo l'offerta che ti verrà spiegata dal nostro agente. Quindi chiama ora il nostro agente per conoscere tutte le promozioni. Un grazie e un saluto da Furio e da tutto lo staff di Origam. Ciao!